Blanca Chignone, è arrivata questa sconfitta con Schio, 71-59, diciamo male il primo tempo perché nel secondo avete avuto una buona reazione contro una squadra fortissima. Sì, sicuramente il canestro non ci ha aiutato, però il secondo tempo siamo state molto più accesi, oggi siamo un po' attivate di nuovo, il primo quarto un po' così, penso che sia dovuto anche un balla stanchezza, però niente, loro evidentemente sono state più brave di noi e continueremo a lavorare. Forse è un lato negativo e tanti rimbalzi concessi agli avversari. Sì, sicuramente sono molto più fisiche rispetto a noi e sono state, ripeto, anche brave su questo punto di vista a guadagnarci più rimbalzi in attacco, dovremmo lavorare anche su questo tagliafuori, però penso che comunque abbiamo dato il massimo in campo. Senti, tu come stai? Non hai giocato, hai un po' di problemi con la caviglia? Sì, alla partita scorsa ho perso una distorsione alla caviglia, però penso che presto ritorneremo in campo, niente di particolare, di grave. Grazie. 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 Grazie.